Questo video è stato prodotto da Elvega, Riccardo Zigarini, Nick Seiri, Giovanni Lanzoni, Matteo Bosi, Elia Morini e Luca Gemignani. Forme di pietra di Clark Ashton Smith. Lettura di libri in pillole. Illustrazione di Donia Tamimi. Io che trascrivo questi ricordi del futuro, ho attraversato miriadi di incarnazioni e morti. Le mie vite appartengono a tutta la storia della Terra. Ho lasciato le mie ossa in valli del Pleistocene, che ora giacciono a molti chilometri di profondità sotto i ghiacciai della Groenlandia. Ho visto un sole più grande dalle vette crollanti di Poseidonis condannata. Sono rinato in tutte le regioni che siano mai esistite, in quelle che esistono oggi e che esisteranno in avvenire. Quattro volte, in età molto distanti, sono vissuto nella terra di Dusatom, destinata a diventare il più settentrionale dei regni abitati di Zotik. È di queste ultime vite che adesso scriverò, raccontando cose che sono già avvenute nell'eternità, ma devono ancora verificarsi nel tempo. Perché io sono stato e sarò il profeta Ulon, Voridis il comandante di eserciti, re Agranod e il mago Nolu. Con i loro occhi ho visto e testimonierò ancora il destino mostruoso che avanza perpetuamente su Dusatom attraverso secoli e millenni. A me che ero invecchiato nella remota, favolosa Avandas, sede dei sovrani di Dusatom, a me che ero stato onorato dai re per ottimismo e per prosperità di predizioni, giunse alla fine una visione che annunciava il male. Venne una notte in cui la luna era morta e le stelle erano avvolte in vapori accecanti. Fu come se le pareti della mia stanza fossero cancellate e le solide magioni di Avandas, le ampie terre fertili di Dusatom, si alzassero alla stessa maniera di un velo sottile. Allora io vidi, sospesa nell'aria su di esso, una grande regione del nord dove nessuno si avventurava, perché oltre c'erano soltanto mari estesi e mai solcati. Sotto una luce che abbagliava come un sole morente, guardai le nude pianure e i colli senza alberi della regione che si chiamava Nuth Kemmor. Conclusi che grandi masse di pietra, a forma di lunghi e tortuosi costoni o balze, si erano misteriosamente sollevate al di sopra del deserto roccioso che già fiancheggiava il mare vuoto. Masse innumerevoli a perdita d'occhio, che non riuscivo a distinguere con chiarezza, perché nei miei occhi la luce cambiava e a tratti guizzava come riflessa da uno specchio che qualcuno spostava, intervallata da momenti di cecità e ombra. Ma vedevo le masse muoversi in continuazione, strisciando verso sud come draghi senza ali, in maniera innaturale, per i monti o per le colline della terra. Per questo una specie di orrore si impossessò di me. Veloci, sempre più veloci, scorrevoli come grandi torrenti neri, le masse attraversarono Nuth Kemmor e mentre camminavano era come se io mi trovassi al di sopra. Le sabbie scanalate del deserto, i colli più aspri, fu tutto livellato dal loro passaggio, finché Nuth Kemmor rimase alle spalle della corrente, due volte desolata. Le rocce superarono i confini di Dusathom, dove le terre fertili al limitare del paese lambivano il deserto. Ancora le vaghe forme delle montagne mobili avanzarono verso sud, senza che riuscissi a vederle perfettamente a causa della luce mossa. Ma su di esse gravava un mistero estraneo, una minaccia abnorme, e non di questa terra. Grazie. Grazie.